Io penso che più che finisce in me è un lavoro di squadra, abbiamo messo in campo delle persone veramente fresche, giovani, che hanno parlato delle cose che vogliono fare per i prossimi 5. 3.039 voti per Davide Moro e la sua squadra, un consenso che ha sfiorato il 60% quello che ha portato alla riconferma del sindaco di Due Carrare che si è imposto su tre sfidanti. Subito il lavoro in municipio Moro che spiega come il desiderio sia quello di puntare sulla famiglia. Aiutando le famiglie, le neomamme, i neopapà con un nido efficiente, con delle scuole efficienti, con dei progetti che aiutino i nostri ragazzi in questo mondo complesso e poi via via con lo sportello lavoro per chi ha 50-50 anni magari ha perso il lavoro e deve reinventarsi e deve ritrovare appunto anche una motivazione su intrinseca. Per finire poi con chi ha i genitori da accudire, quindi stiamo pensando in creare un albo che le va davanti.